ciao a tutti amici di nexus lab sono alessandro bertola e qui adesso oggi vi illustrerò quello che è il fenomeno del momento telegram un'app che ha avuto un successo stellare grazie alla debacle di whatsapp in alcuni giorni soprattutto i sabati sera dove i server sono andati offline per qualche ora e anche grazie soprattutto all'acquisizione da parte di facebook che ha un po' spaventato gli utenti un po' li ha convinti a cambiare a provare qualcosa di nuovo ma scopriremo crediamo che alla fine questo telegram di nuovo a livello di funzioni a poco può essere a volte anche considerato un vero e proprio piccolo clone apriamo telegram ok app che non vi nascondo utilizzo tantissime app di messaggistica istantanea telegram per adesso non è tra le mie preferite non tanto perché non sia utile ma quanto perché sarebbe un'ulteriore app da configurare da cercare gli amici eccetera come potete vedere apriamo telegram o apriamo whatsapp ci sembra esattamente la stessa identica cosa infatti l'interfaccia non è che sia tra le più originali del mondo andiamo apriamo a livello di nuovo chat come potete vedere anche qua a livello di icone troviamo quasi le stesse che troviamo in telegram e in whatsapp quindi tutto molto familiare anche le icone degli animali delle città eccetera tutto molto simile e anche i simboli è stato aggiunto di recente nell'ultimo aggiornamento i messaggi vocali prova 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 ok inviato possiamo allegare una foto una galleria un video un documento la posizione cosa carina è che i video possono essere molto molto più grandi quello è un limite di whatsapp che dovrebbe essere eliminato tra poco però un limite che telegram non ha possiamo impostare tutte queste impostazioni nel menu relativo possiamo inserire il nostro nome e cognome mettere una foto abilitare le animazioni notifiche suoni possiamo impostarli sfondo chat ne troviamo già diversi mettiamo questo questo che ci ricorda molto i nexus utenti bloccati non abbiamo nessun utente bloccato chiudere altre sessioni gruppi chat private gruppi che possono arrivare di chat anche a 200 elementi chat private sono tutte quelle chat non visibili quindi molto utili per chi vuole vuole nascondere le proprie conversazioni nuovo gruppo possiamo selezionare tantissimi utenti senza nessun problema non abbiamo infatti praticamente limiti 200 utenti sono veramente tanti e possiamo inoltre a volte si chiude un po di scatto ok non va in crash non sappiamo se siamo noi che erroneamente ogni tanto schiacciamo ma probabilmente invece l'app con questo nexus 5 si chiude in automatico non si sa come mai possiamo cancellare la cronologia di questa conversazione adesso sarà vuoto eliminare direttamente la conversazione possiamo anche allegare documenti proviamo ad allegare un articolo per nexus lab come potete vedere abbiamo inviato un articolo e l'abbiamo però anche cancellato quindi veramente funzionare a livello di impostazioni però perché passare a telegram quello è difficile noi sinceramente la cosa che ci potrebbe far passare è che tutti i nostri amici sono passati a telegram oppure non vogliamo pagare gli 89 centesimi adesso non mi ricordo con precisione altri motivi privacy non privacy eccetera difficile dire chi veramente tenga la nostra privacy quindi almeno che non scriviamo chissà cosa non fa particolare particolare differenza possiamo inoltre invitare i nostri amici con questa casellina qua in alto nell'elenco dei nostri contatti possiamo avviare una chat segreta come potete vedere chat segrete utilizzano la cifratura punto a punto non lasciano traccia sui nostri server hanno un contatore di autodistruzione non permettono l'inoltre questa è un'ottima feature prova 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 se no ci danno per pazzi quindi questa possiamo impostare contatore autodistruzione a due secondi quindi a due secondi il messaggio quando verrà letto si autodistruggerà dopo due secondi funzione estremamente utile quindi per concludere telegram come punti di forza cosa ha? è gratuito ha una buona interfaccia ha qualche limite in meno di whatsapp ma per il resto non presenta grandi differenze aspettiamo tutti le chiamate in voip non sappiamo se arriverà prima whatsapp o prima telegram qua appunto dipende dai vostri gusti personali e cosa usano i vostri amici un saluto da Alessandro per Nexus Lab grazie a tutti